Si sposti per favore signor... eh... Stella! Wow! Guardate questi gecchi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno!